Non vorrei parlare al posto della Meloni, toccherà a lei, ma mi sento di dire che non potrà consentire, non consentirà che per il risparmio energetico e altre necessità certamente importanti, i ristoranti debbano chiudere alle 23. È una misura totalmente lontana dalle necessità di persone che hanno patito chiusure forzate con il coprifuoco, la chiusura alle 6 del pomeriggio. Quando un ristorante talvolta apre alle 5 del pomeriggio e va avanti fino a mezzanotte, alle 1, alle 2, non si può immaginare che un ristorante chiuda se non dopo che l'ultima persona se ne è andata, naturalmente stabilendo che le cucine possono, come già accade, smettere di funzionare tra le 11 e le 11 e mezza, ma l'idea di chiudere e mandare via le persone e stabilire un'altra regola come quella che abbiamo vissuto, quelle regole assurde durante i governi Conte e Draghi, questo, io mi sento di dire, non potrà né volere né consentire Giorgia Meloni. Io farò quello che posso fare, ma non credo che sarà necessario che io la convinca di una cosa di cui non può che essere convinta anche lei. Mai i ristoranti chiusi alle 11 di sera, mai un coprifuoco, mai una misura finta per risparmiare, ma in realtà per ridurre in povertà le persone che lavorano in quel campo e che hanno necessità di orari certamente più lunghi. Grazie.